Tanti amuri a te, tanti amuri a te, tanti amuri adriana, tanti amuri a te. Perché è una brava ragazza, nessuno lo può negare. Nessuno lo può negare, nessuno lo può negare. Discorso, discorso, discorso. Guarda, aspetta che ti zoom per bene. Mi sento, non mi mangio. No, 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 parli qua. Infatti è una parola che devi dire. Allora, ma ve lo dico, eh, ci vado a passare. Partendo, ho pensato un sacco di volte a quello che volevo dirvi, poi non mi ricavano niente. Eh, che dirvi? Sono un po' emozionatina. Brava! No, niente, non lo so. Cioè, mi è dispiaciuto tanto che non ero con voi il giorno del compleanno. Però mi ha fatto molto riflette in generale in quei giorni, qui, per questo periodo, che, insomma, sono quanto importante questo posto, insomma. Eh, però, va bene, non ci sono tante parole. del piede, sia proprio per l'energia che c'è qua, ma non so, qua possono succedere cose che non possono succedere da altre parti, solo qua per quello che si è creato, insomma. Cosa posso dirvi? Cosa posso dirvi? Sì, vuoi dire. Fai il gov, va. Non mi sono bene, perché va bene il mio cuore con ardore. Tra me immaculata che esagera sempre. Sì, tra me immaculata perché esagera sempre. Sommiamo la schiena di Erika di Porto. Sì, brava, 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 brava. Ma non è vero. In realtà anche quando è venuta immaculata qualche giorno a casa, avete stato un po' nei quei momenti, non so cosa ti era successo, che non avevi mandato il bonifio, però si sentiva l'energia della scuola. Non lo so, ragazzi, voglio tanto il bene e vi ringrazio quantissimo per quello che facciamo insieme, per tutti. Siete tutti, per me siete tutti degli esempi per tante cose, uno per una cosa, uno per un'altra. Mi ispirate molto tutti e vi osservo sempre tanto. E poi ringrazio il maestro che, insomma, ti fa mirare poi sempre per tutti i giorni. Basta! Ok! Discorso! Discorso! Allora... S camouflage? Ti da Andrei... hanno un nuovo spatto con… No... Iscrive? È shallervo,